Il Consiglio regionale ha approvato questa mattina in via definitiva le modifiche allo statuto regionale che prevedono il taglio del numero dei consiglieri dagli attuali 45 a 31 e di quello degli assessori che passano da 10 a 6. Un provvedimento che si inserisce in un percorso avviato fin dall'inizio della legislatura che ha portato già nel 2010 al taglio delle indennità e dei fondi ai gruppi oltre all'introduzione di sanzioni pecuniarie per i consiglieri che non partecipano alla seduta del Consiglio e delle commissioni. Soddisfatto il Presidente Nazario Pagano. Un ulteriore tassello fondamentale nella riduzione dei costi della politica in cui si è incamminata la regione Abruzzo già da tempo anticipando molte altre regioni d'Italia tant'è che soltanto un mese fa il governo Monti ha certificato che la regione Abruzzo in materia di costi della politica era una delle tre regioni di riferimento nazionali e credo che oggi avendo ridotto da 45 a 31 in seconda lettura il numero dei consiglieri regionali a valere dalla prossima legislatura, cioè fra un anno e a ridurre il numero degli assessori da 10 a 6 ha compiuto un gesto di grande importanza non solo in termini di comunicazione pubblica ma rispetto ad una popolazione che certamente soffre la difficoltà del momento e dell'economia che langue, ecco dare un esempio di questo tipo credo che sia importante. Siamo ormai ad una riduzione dall'inizio della legislatura di circa il 25% del bilancio del Consiglio regionale, ridotto il numero dei consiglieri, ridotte le indennità, ridotto il numero degli assessori, ridotto il numero delle auto di rappresentanza 4 in giunta, 2 in consiglio regionale, ridotto l'uso della carta, insomma stiamo portando avanti una serie di iniziative che tra l'altro concluderemo con la riduzione del numero dei dirigenti che proveremo a portare a conclusione entro il primo trimestre del 2013 a dimostrazione del fatto che noi abbiamo davvero a cuore i portafogli dei contribuenti abruzzesi e penso che questo sia il gesto più importante che in un momento del genere gli amministratori regionali devono avere. Entro il prossimo 23 dicembre arriveranno in aula anche altri provvedimenti che contribuiranno ulteriormente a ridurre i costi della politica con tagli al trattamento economico dei consiglieri, alle auto di rappresentanza, al personale dei gruppi politici e al numero dei dirigenti che in consiglio scenderanno del 30%. Queste azioni hanno permesso di ridurre le spese del Consiglio regionale dagli oltre 33 milioni di euro del 2009 ai 29 del 2012, cifre che scenderanno ancora fino a toccare nel 2014 i 25 milioni.